Vertice sulle problematiche sanitarie ieri pomeriggio presto la sala giunta del comune di Sciacca, convocato dal sindaco Fabio Termine. Al centro delle questioni il futuro degli ospedali di Sciacca e di Ribera, la carenza cronica di personale, la gestione manageriale ASP di Mario Zappia e l'annuncio di un sit-in di protesta da parte dei sindaci dinanzi il San Giovanni di Dio da tenersi giovedì mattina, iniziativa che Zappia, in una nota trasmessa pure al prefetto, ha già bollato come sterile propaganda, suscitando un vespaio di polemiche e la protesta dei primi cittadini e del Comitato Civico Sanità. Il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, al termine dell'incontro, ha preannunciato la volontà di richiedere i bilanci dell'ASP di Agrigento per conoscere nel dettaglio come sono spesi i soldi dei contribuenti e la politica economico-gestionale di Zappia. Sicuramente si sta facendo massa critica, che è quello che è più importante in questo momento. In questo momento c'è una situazione molto in fibrillazione tra i sindaci e il territorio perché c'è la volontà di essere tutti compatti, finalmente si parla di 43 sindaci che sono tutti all'unisono per combattere questa inefficienza dal punto di vista della sanità che ormai è diventata cronica e che non può essere più sostenibile. Oggi io credo che bisogna andare veramente nel merito delle vicende e io ho proposto, e sicuramente su questa cosa andrò avanti, di avere accesso immediato ai bilanci dell'ASP e anche a tutte le prestazioni che sono state effettuate nei vari presidi ospedalieri, perché credo che bisogna andare veramente nel merito delle vicende e indagare che tipo di scelte sono state fatte, come sono state fatte e con quali fondi anche, perché non credo più che si può più fare quello che Zappia sta facendo, cioè trattare tutti alla stessa maniera e pensare di fare tagli lineari sulla sanità che altro non fanno che poi depauperare un intero patrimonio che è quello della sanità agrigentina. Nella nota odierna il manager della Zappia, Bacchette e sindaci, parla di sterile propaganda, lei cosa ne pensa? Penso che la nota di oggi di Zappia offenda veramente il ruolo dei sindaci, perché non si può pensare che si possa indietreggiare dalle proprie responsabilità rilanciandole verso gli altri. Io penso che oggi i sindaci hanno un compito che è quello di rappresentare tutti i cittadini agrigentini, quindi della provincia di Agrigento, rappresentarli nel migliore dei modi e soprattutto fare quello che stanno facendo, ossia massa critica e soprattutto concertazione di tutte quelle che sono le istanze che arrivano dal territorio. Faccio un esempio su tutti, dico che oggi ributta la palla sui sindaci il 2 maggio, siamo andati noi come città di Sciacca, era presente oltre a me anche il vice sindaco e poi i deputati del territorio, mi riferisco a Michele Catanzaro, Margherita Roccarruvolo e Carmelo Pace, siamo andati a Palermo, era presente Zappia, era presente l'assessore Volo, il 2 maggio hanno promesso che in tempi brevissimi sarebbe stato bandito il concorso per la neurologia e per attivare poi la stroke unit. Sono passati tre mesi, non si è fatto nulla e oggi chi dice ai sindaci che fanno propaganda in realtà non ha fatto il proprio lavoro. Al vertice erano presenti alcuni sindaci del comprensore sanitario, tra cui quelli di Sambuca, Santa Margherita, Ribera e Lucca Sicula, i referenti del Comitato Civico per la Sanità, di Cittadinanza Attiva e dell'Associazione Orazio Capurro Amore per la Vita Ondus, nonché gli onorevoli del territorio Margherita Laroccarruvolo, Carmelo Pace e Michele Catanzaro. Non potevano non essere presenti dato che riguarda una materia importante e tengo a precisare che l'ospedale di Sciacca, così come l'ospedale di Ribera, non sono ospedali che riguardano soltanto le due cittadine, ma noi intendiamo in particolar modo l'ospedale di Ribera che è molto più vicino alla comunità di Lucca Sicula ma anche dell'interrante come nostri ospedali. Sono i nostri punti di riferimento e soprattutto è importante che funzionano e che vengono ovviamente potenziati. Ecco perché oggi ci siamo riuniti anche in funzione a diverse determinazione che anche noi sindaci, anzi soprattutto noi sindaci, siamo pronti come sempre ad intraprendere. Se in prospettiva vi dicessero a voi sindaci chiudiamo Ribera per potenziare soltanto Sciacca? Assolutamente no, sono due strutture importanti e fondamentali che devono restare in vita entrambe e soprattutto devono essere potenziate perché sono a servizio di un'intera comunità.